Le anticipazioni del segreto, relative alle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 novembre 2018, ci rivelano che Puente Vieco sarà sempre sotto il controllo del generale Perez de Ayala, il quale, desideroso di vendetta, continuerà nella ricerca dell'attitante Nicolás. Per trovarlo, ha arrestato Emilia e Alfonso, e li ha fatti torturare in prigione, dicendogli di aver arrestato anche il loro figlio Mattias, in realtà nascosto insieme a Marcella nei sotterranei di Villa Montenegro. Tutta questa violenza per indurli a rivelare la posizione di un solo uomo. I Castagneda però non cederanno ad alcun ricatto. Nella puntata di lunedì 5, vedremo la grande preoccupazione di Giulietta per la salute di nonna Consuelo, ancora sofferente per il veleno messo da Prudenzio nella Valeriana, assunto accidentalmente dalla donna, ma che era in realtà destinato alla ragazza. Anche Severo si ritroverà ad affrontare un periodo difficile, non sapendo come comportarsi con Irene. Per questo chiederà più volte l'aiuto del suo amico Carmelo. Gli ultimi spoiler ci rivelano che in settimana ci sarà spazio anche per le indagini su Meliton portate avanti da Dolores, che incaricherà Tibursio di reperire informazioni sulla sua vita privata. Quando poi Dolores troverà una foto di Meliton che abbraccia un uomo, cosa che la sconvolgerà non poco, ci sarà un aspro scontro tra i due. Ma al centro delle trame ci saranno comunque le vicende di Saul, Prudenzio, e Giulietta. I due fratelli decideranno di giungere a una tregua, almeno fino a che Consuelo non verrà dichiarata fuori pericolo. Tuttavia, Laurearte ha ormai intuito che il marito nasconde qualcosa, e dirà a Saul di stare molto attento. Se vuoi conoscere sempre le ultime novità iscriviti e lascia un mi piace. Al prossimo video!